E ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati in questa nuova domenica Pronti per continuare la nostra avventura su Grand Theft Auto 4 Siamo arrivati da Playboy X Perché ovviamente dobbiamo andare avanti Vediamo un po' The Holland Play Stiamo continuando la nostra avventura, stanno succedendo cose Insomma, continuate a vedere gli episodi Ok, ok Mi sono arrivato in questo gioco Perché è stato l'unica cosa che mi ha aperto L'unica cosa, ragazzi Ehi, non sto giudendo Figurati Eh sì, effettivamente Bro, vabbè Ma... Ma... Ha cambiato subito idea però, eh? Ma... 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 Tu si Ma... 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 Porca troia Greve eh Pesa la situa qui eh Perché con Dwayne poi Stavamo anche abbastanza Abbastanza d'accordo Nel senso che lo abbiamo aiutato Con la ragazza E quant'altro così è ma Vedremo vedremo Vabbè allora per ora Questa missione era solo una conversazione E che conversazione Allora io vorrei andare Qui da Pachi Andiamo a vedere un po' Pachi che cosa ci offre E E proseguiamo Dai ma mi son fermato Cioè la macchina non frena È colpa mia Comunque ragazzi Cioè Ok siamo arrivati da Pachi Allora fermati qua Eeeh Calma calma Madonna E che cos'è Certo abbiamo rubato una macchina Comunque discutibile Però va bene Senti che pronuncia incredibile Stamattina Cioè la plana era Cioè la plana era Cioè la macchina Cioè la macchina Oh hey Nico Hey Kate Oh Get your fucking hands Off my fucking sister Boy We're talking Not having casual sex Patrick I pray After the amount of practice You've had You'd know the difference Sure I know the difference One leaves you feeling sad And empty And alone And the other's casual sex And I'm quite sure You and Mr. Nico Here will have fun Vabbè tecnicamente Noi abbiamo campo libero Quell'altra Michelle Si è scoperta essere Uno sbirro Posso sapere qualche dettaglio? Sì Eh Eh Ok Ok Niente proprio di meno che alla mafia Sarà Corco due Vada qua Che macchinina vi ho procurato Cinque porte vai Non attraversate eh Pezzi di merda Troppo complicato Allora Venite qua Venite qua Su Submistamento di fio di sotto l'Algokin Bridge a Colony Highland Va bene Sali C'è cinque porte Ti incastri sullo specchietto Sei un coglione Guida fino al deposito di riciclaggio Va bene Va là Inversione C'è cinque porte C'è cinque porte C'è un'operazione di Ancelotti Ray tipped uscire a fare un grande pagamento che hanno avuto Un pagamento di pagamento Ancelotti Eh Non posso dire a tutti quei famiglie di part Ancelotti L'allenatore della Real Madrid Grande Carletto C'è cinque porte Pecorino Pagarino Is a buncha guido gangsters Out of the They are all mafia Corsair Cosa Nostra And all that shit Our family used bigger and all that mafia family put together Back in the day that is Eccolo che due, scusate Pergatori F*** you Gordon Now f***ing come back there And kick your f***ing ass in a minute I hear that Francis McCrary is your brother F***ing Frankie my brother He may have a badge but I tell you for a fact He's as crook as the rest of us More so At least we ain't f***ing hypocrites Kate's the only diesel one I couldn't believe that You know Frankie do you? I got a story for you if you do Another f***ing story Shut up Gordon So Nico When Francis and Gerald was growing up Frankie becomes an altar boy He swears to this day that he wanted to serve the Lord Jerry knows the truth though He only put on that cassock so he could pocket the change in the collection plate Fact That's Francis down to a f***ing T I don't even know if he realizes what a crook he is That sounds like the Francis McCrary I met I bet Model community leader my ass You just worried he'll start clamping down on you Hate your packing I'd like to see him try it Not gonna happen with the things Jerry knows Here we are boys Moment of f***ing truth Ci siamo? Ci siamo Vai Entra Parcheggia Parcheggia in retro Pronti per andar via Anche se Se dobbiamo scappare con questa macchina Non è proprio Ok Ok Va bene Entra nel deposito a prendere i soldi Va bene Iniziamo a mettere l'armetta va No 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 niente Niente No f***ing way No no niente No f***ing way Solo sì Gli stanno sparando Dai 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 Ok vai 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 Questi li abbiamo fatti fuori Per fortuna non stiamo da soli Ah di qua stava andando bene Stava andando bene Cosa dobbiamo fare? Devono aprire? Devo andare io? Merda Calma 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 Perché riparti un po' Riparti un po' Ok Eh si bisogna andare con la K che è molto molto meglio Ovviamente ci permette una mira migliore Perfetto Mortacci tua E che guarda si incastra Le meccaniche di GTA 4 alcune volte Ok ecco i soldi Perfetto Perfetto Forza po' Ma questo qui Ma ammazza Ma ammazzateli Porca puttana Madonna ragazzi Sto veramente una merda con la vita Ma questi qua dietro Comunque sono dei rincoglioniti amici nostri eh Eh ma lo sapevo Ma lo sapevo Ma prima o poi Io ero andato lì Pensavo di dover uscire Invece no Dove uscire dall'altra parte Che coglioni Mamma mia Comunque non si trovano giù Botti antiproiettili Medikit Ok Riappiamo i soldi Ora cerchiamo di capire dov'è che dobbiamo scendere Ah ok Perfetto Vai 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 Madonna Aiaiaia Dove cazzo sta Scappa dal deposito con Paki Namo Paki Namo Paki Corri Paki Vai 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 Andiamo alla barca Andiamo alla barca eh Avessi capito prima che bisognava uscire da dietro lì Era nazzo Cioè Paki ma a te pare che te devo aspettare in te sbotini Paki dove cazzo vai Dai Paki Madonna mia E la lentezza di quest'uomo Guardalo Guardalo Una passeggiata romantica Vai tranquillo Vai tranquillo Le so portare alle parche Vai Mortacci tua Mortacci Ok eccoci qua Non ti assicuro nulla Bella Paki Bella Paki Attacci tua Quanto ci ha dato Non si sa Non c'è scritto Non ce l'ha scritto Va bene Ok 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 Allora Dov'è che ci troviamo? Ok ci troviamo qui Io quasi andrei alla United Liberty Paper O se no Dobbiamo andare da Francis Andiamo da Francis Andiamo da Francis Andiamo da Francis Andiamo da Francis E poi prossimi episodi Torniamo alla United Liberty Paper Ah che dio Merch della pula E la pula busso Qui si mette male Faghi Dica Eh Ok Kate PM Tornato Paki Tornato Paki Paki McFly Qui Vabbè ragazzi Andiamo da Paki Stiamo qua vicino Eh A sto punto A sto punto Andiamo da Paki Ultima missione di oggi E poi concludiamo Tata alla fine Facciamo sempre All'incirca Due tre missioni Fare un video Godibile Di una ventina Di minuto Di mezz'ora Delle volte Andiamo a vedere Un po' Paki Qui che vuole Ce lo togliamo di torno Già che siamo qui Tree Leaf Clover Ecco Partiamo alla grande Partiamo alla grande E qui è Niko Niko è un'estima, io metto il mio cuore del cuore di ricco. Quindi vuoi inviare a lui in il negozio? Cosa di lui? Cosa di lui è che piace il combattimento e non è la legge. Oh, non offence mister, questo non è abbastanza buono. Beh, è abbastanza buono per me. È un buon uomo, Gerry. Ah, era una parola di parlare con il bret e il halfwit? Non parla di non parlare con i morti morti di bros e sottotitoli. Non parlare di miei i miei parenti così. Oh, è come Cleopatra, 15 generazioni di bros e sottotitoli, Ok. Jackie, guarda Dereck, è stato fuori. E tu? Niente personale, ma non fai con la mia famiglia, o io farò fai con la tua. Esaustivo. Eh, che casino. Ok. Sì, sì, lo so, lo so, lo so. Ci hanno portato via lo sportello qui, eh. Regati alla banca. Io quasi prima... Dov'è che sta la banca? Oh, perfetto. Lungo strada c'abbiamo anche un... Un Ammunation. Io, un bottino antiproiettili, me la vado a prendere, sa? Sperando che possa entrare a prenderle, effettivamente. Esatto. Esatto. Lo so, lo spero. Spero che possa entrare. Piccolate via la deviazione, ragazzi, eh. Scusate. Vai, vai, compra un po' di roba, mofra. Vai. Vai. Possiamo andare, ragazzi. Possiamo andare. Fatto. Eh, sì, ma ci serviva. Per forza, perché... Perfetto. Let's go. Fondamentale, il giubotino antiproiettili. Visto che qua, se muore facile. Non c'è nulla di niente, Patrick. Sono sinceri sulle idee di me, Damien. Hit'e la città del ondo l'ho, ha detto, l'hai? L'expressione è, Hit'e la nail on l'handa, Paki. Visto, Michael? Non c'è quello che conoscevo? E Jerry è vero sui, Michael. I vostri hanno dovuto essere figli per produrare un ragazzo che tui. Non sorprendo che tu non hai tre i, no balls e una club. Non portare i miei i miei i miei i gatti, Paki. All'altro, all'altro. All'altro, noi stiamo tutti. Once il estivo da un'altra, I chiamo di un'altra, I chiamo di un'altra, Eh, noi siamo arrivati Ora il problema qual è? Scusa, non bisogna metterli prima? Sennò ci riconoscono La vedo greve io La vedo greve, assai greve Non c'è stato la chica? Non c'è stato la paese Non c'è stato la chica per toccare la Non c'è stato la chica E' tutto ci si tratta E' un pollo di cuore Non c'è stato la chica Non c'è stato la chica Stiamo ora per il lato della banca Quattro a sospettare Si scusate le punte C betta la porta C betta la porta C betta la porta C betta la porta Ok? Espere una seccola Capitla Ok 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 Eccolo Eccolo Io sono un membro di giro Ero i ragazzi a me Sei con me? Ehi, qual'è il nome, figlio? Luis, ma questo non è una buona idea, bro Sì? Sì 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 No Sì 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 Ma che cazzo stanno a fare? I rincoglioniti I rincoglioniti I rincoglioniti Ma mettiamo il pompazzo qui perché siamo in un punto stretto, quindi Il pompazzino, tanta roba Ecco Dei rincoglioniti, dei rincoglioniti Ma mettiamo il pompazzo qui perché siamo in un punto stretto quindi Il pompazzino, tanta roba Però Beh i soldini eh Beh i soldini eh Che siamo fottutamente circondati Senza un cazzo di piano studiato Siamo morti Siamo spacciati Questa la dovremmo rifare 70 volte io ve lo dico Sì You're trapped Lay your weapons down and surrender There's a bacon factory out there, sick! Stick to me boys We gotta get this cash out of here Oh Te puoi mettere a move! Oh Te puoi mettere a move! Oh Oh variables Hell The money's ours now Screw you all! Let us grow a fucking team for life! Non spara! Guarda ci mette sette ore e mezza a sparare. No, 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 la granada, la granada. Let's go fucking peace you like! Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on! Cash is ours now! You ain't... This is the way we're going. This is the way we're going. The wrong world. Motherfuckers! Merda! Cos'è il Vietnam, mannaggia la bubassa! Vabbè, li scopriamo, li scopriamo così, li scopriamo. Prima li scopriamo e poi li scopriamo. Vero lì su. Andiamo, ragazzi, andiamo, ragazzi. Ma un veicolo non si può prendere? Eh, ragazzi. Sei stelle, ragazzi. No, cinque stelle, cinque stelle, cinque stelle. I Derrick e Patrick. Sì, sì, io li scopriamo. No! No! Andiamo! pushing!! Soprante e questo bambino su amante slapa non St even widespread. Adesso siamo degli aiut. Il paure è il pano ora! Rip témo non ciò! Corri! 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 L'abbiamo fatta? Insomma, l'abbiamo fatta mica tanto. Vai, 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 la metro, la metro, la metro. Madonna. Poi stanno tutti qua, stanno. Eh, sono i poliziotti. Una pacca pura il mondo. Dato. 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 Ma quello lì era morto. Eh, che cazzo. Mori un po'. Dov'è quest'altro bastardo? Eh, la mezzo mica sta fermata. Calma, 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 calma. Noi, non so. 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 Non so. Sali su. No, dove cazzo devo andare? No, devo andare su, devo andare su. Ma non si vedeva un cazzo, tutto buio. Ok, sono diventate tre stelle. Non vedo un cazzo di niente. Vai, salite, 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 salite. Fermi. Pegli in spray. Pegli in spray, assolutamente, correre. Vai, vai, tira, 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 tira. Signora, signora, ma lei può attraversare così, ma le sembra normale. Qua. Qua. Siamo scappati. Perfetto. Anche senza il penne spray. La grande madonna delle volte non riusciamo a scappare. E andiamo dritti. Vecce ora siamo fuggiti. Va bene, va bene lo stesso. Eccoci tornati a casa, ladies and gentlemen. Uh, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Eh. Ma anche no, guarda. Anche meno. 250.000 dollari. Porca putta. Rifacciamolo. Va bene, va bene. Possiamo rifarlo. Ladies and gentlemen, io vi saluto qui. Vi invito allora a lasciare un like, un commento ed iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo settimana prossima ad un nuovo episodio di Grand Theft Auto 4 e ci vediamo nel prossimo video sempre qui sul mio canale. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.